E signore ci siamo, siamo in live, per la seconda volta Sì ragazzi stiamo facendo gli alberghi che sono strameca belli Ragazzi io, eh no aspetta per il momento, ancora no, io sono un attimo nel nether No, no, noi spoileriamo, vogliamo Vado un attimo nella fortezza, però qua sta del quarzo, che è il quarzo, è buono per fare il livello Io me lo prendo il quarzo Oh regala, ci dà la merda di, ci dà la merdina di, 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 come cazzo si chiama Come cabbolo, si dà Perfetto, sono fortissimo YouTube Oh già, ragazzi, ricordate come si fanno le pozioni di distanza al fuoco No Perfetto No Ottimo benissimo Dai ragà, voglio incentarmi, voglio incentarmi qualcosa No vabbè che scena epica, un cane sta combattendo con un lama, no vabbè va giù No, che scena epica Ho due spectre, subito due spectre, subito due spectre Avvente il cane Vai, il cane sta troppo forte Sì Io sto prendendo un bordello di, di quarzo Ma non solo perché serve per la costruzione che stiamo facendo Ma vabbè poi perché mi faccio un casino di livelli Ragazzi, iscrivete in chat se volete giocare Fai il mio modellatore ragazzi Il nome E' arrivato il principe Una cosa per voi, un regalo Un regalo Sentiamo il regalo Uscito lo spesso Vabbè, fai niente Allora aspetta Io vorrei cercare dei piglins perché ho 23 di oro E se no mi scalmino delle enderpearl Io gli brucio la mamma Di te Non vensi amico? So cattivissimo Raga non mi hanno mai detto che mi chiamavano Mi chiamavano, come mi chiamavano a me Ok, raga Ciao Io Hai visto o di quanto? Ciao Ok, mi sento Ok Di quanto non ho preso la lava? Sì, ho visto Cioè, mi sono caduto nel pozzo di lava Ma chi se non era accorto? Giatelli Quanti livelli avete voi raga? Boh, ecco 37 37 37 37 30 No, su Pariana è 27 Ah, è mio, ma lo so Guarda, scrivo il mio nome No, 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 no Ho l'oro Ma porco Vabbè, ho la Cobblestone Ho la Cobblestone Posso piacere un po' di torce in giro Come alla mia Ma quanto è bello sto legno Prendilo, possiamo fare molte costruzioni belle Eh, ram un attimo Moody Ma quanto è bello No, lo voglio Ragazzi, c'è ancora il cane Ragazzi, c'è ancora il cane? Yes C'è ancora il cane? No Non c'è più È morto il cane? È morto il cane È despaunato, non è che è morto Ah, ok No, no, sta ancora nell'hotel Scherzato È viva Hotel Perché è spoilerato? Non dovevi spoilerare Stavo solo io come spec di live Vabbè, io sto livello 20 28 ormai Bene, perché il cane me lo porto a casa io Ma si può vedere il quarzo con il... Sì, si può prendere E iniziamo già bene Perché io con la spada mia Dai, raga Io voglio arrivare al livello 30 Perché voglio incertarmi il mio piccone Per favore Grazie No, raga, non andate a dormire No, mi scuccio Allora, raga, io devo fermi Come ti scucci? Ma io so che mi erano disabilitati Posso portarmi il cane? I trucchi mi erano disabilitati Allora, perché come cacchio fai? Io ne prendo un botto di soglia Perché è fidissimo Infatti, chi ha messo a giorno? Chi ha detto che metto a giorno? Io ne prendo un casino di... Prendo un casino di legno questo qua Perché è bellissimo Ma tu vuoi portare, stu sceme canaca? Eh, me lo so... Me lo so preso Vai, vai No, non ti sta seguendo Ma tu vuoi che bello sto... Sei venuto? No, stai bene 15 di soglia qua Warped Warped Sam Ti ti hai portato Al padrone Per il momento Nella hotel Per illuminare Sto mettendo le torce Anche qua Poi metto Metti la glowstone Io ho 29 di questo legno E vabbè No, era che è bellissimo È bellissimo quando era notte Che cosa? No, l'hotel era bellissimo Eh, lo so Ma quello là dell'albero Dici? Sì È molto carino È molto carino Raga, vi salvo il culo Quando se ne basta Però qui ti puoi, ho non lavorato però Io salvo il culo Eh, ok, va benissimo Oh, piglin, piglin, piglin Vai, tieni Scambia con me Ok Raga, in certo c'era scritto lupo è morto? Sì No No Sì, sì Eh, sì, sì, sì No, dai, raga Dovete dirmi la verità Sì Sì No, sempre l'hotel Non sta scritto Allora, perché me mi esce? Tua nonna Quando è vero Ah, no, scusatemi Era Wolf was blowed by creeper Scusatemi Eh, vedi Non è morto il tuo cane Eh, aveva capito che era morto Scusatemi Ma che cazzo mi sta dando questo? Sabe delle anime Ma che cazzo me ne faccio? Cioè, che cazzo mi ha dato? La prima Quanto cacchio Where it is? Ho più di un stacca e mezzo di quarzo Ma io non lo vedo Perché non si sta muovendo È uscito difendessi Ma qui è tutto O quando vieni Devi muovere Devi fare tutto il pavimento Perché se no Io non ce la faccio A fare Qua sto grandissimo figlio Di cutretto la Di cutretto la morta Qua dice là Io con cutretto Raga c'ero la cutretto Oh, hai rotto il cacchio Di cast Però è Oh, è rotto Oh, che bella mira Che c'ho con l'arco Però, eh Oh, e là lo riesco a prendere A fossa, va di Che stronza di creep Rivela 29 Raga Oh, è la crema di cast È buona Non mi serve per fare Come si chiama La negast La negast What? Il beacon Eh, il beacon Non mi scusa Citanese La festa non si può craftare Altro quarzo Fa il charger Mi devi aiutare A fare l'hotel Non ce la faccio Quanto sai Ma che fa il charger Ma che schia Di fare tutto il pavimento Saranno una Una Saranno un quattro staccato Trocca di blocchi Il pavimento Quanto ora c'è ancora? Vabbè Raga, io voglio Arrivare al 30 livelli No, devi venire ad aiutarmi Non me ne fotte Le 30 livelli Ne fatti venire a fare qualcos'altro Perché devo No, devo finire il pavimento Eh, vabbè Poi dopo lo finisci Lo finisci Lo finisci tu dopo Appena vieni E poi mi dai una mano Eh, ok A me lo inizio a spaccare tutto Raga, eh, cos'è? Con il mio binocolo Come si vede la vista Stretto Però questo fuoco Posso indovinare chi ci abita Secondo me ci abita Eh, c'è C'è Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa c'è? Mi ha dato un cazzo Tosto tempo Mi ha dato mancato Dimi quando torni nell'overworld Ma io ti ammazzo Tu lo meriti Cazzo mi ha droppato Oh, però le frecce sono buone Un altro cane? Raga, non mi ha droppato Niente di buono Solamente le frecce Che sono buonissime Raga, ma adesso Il problema Che non ho ricordo È più la strada di casa Raga, se mi dici Che non altro cane Mi porto altro caribone Tu non ho quella Eeeh Surti qua Però un attimo Sulla, raga Ah, ok Ok, ok Qua, qua Ok, qua Ok, qua Ok, qua Vorrebbe essere Verso di qua Sì, è di qua Di qua Però prima di Tornare nell'overworld Voglio un attimo Arrivare a 30 livelli Raga Ti trovo un carino Do Sono una 29 e mezzo Di carbone 18 Se me lo trovate Io giuro che ve lo do Non sto scherzando Non è che ce ne facciamo tanto Geno, io ho il shallog Geno, io ho il shallog Oh, sto scendendo Livello 30 Yolo Ma se mi ammazzo Per fare casa tua Perché Però ma se mi ammazzo Perdi tutti i livelli Ti perdo Tutti quanti Sì Pure se c'è il Kip Inventory No In serio no Sì, sì Sì, sì Ma cosa dobbiamo Torno a casa I livelli si perdono sempre Allora me ne torno a casa Ciao belli Ad un piacere Ok qua Ok Giuseppe Giuseppe Ti do uno scambio Io ti do Dicetto di carbone Se tu mi dai una mano Trovano un cane Aspetta un attimo Ma scusa Perché il tuo cane è morto Aspetta un attimo E' volato in aria Fai conti te E' volato in aria Che cazzo vuol dire E' volato Ha fatto Hai balia Don't fly Tu mi va con te C'è C'è Pricendo il quarzo Alla cazzo Di cane Qua Che sta il Ah, il portale sta qua sopra Tu Vieni l'aria Tu Vieni dentro al mio cuore Oggi niente aspetto Purtroppo no Vabbè Ok sto tornando Nella Nella award Eccomi qua Buonasera Vieni un po' che mi esce Vieni un po' che mi esce Mi esce Efficienza quattro Con trenta livelli Eh Nel piccolo in diamante Fortuna treo Nel piccolo in ferro Che ne so Fallo Lo faccio E' buono Per prendere diamante Allora Sta bene Nel mio gruppo Di maica Di 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 port Solo perché Che stanno Se possono stare Fuziti Che non sto parlando Con Sto parlando Con altri miei amici Di classe Rompene i coglioni Ogni volta Solo perché Io mando delle cose Che voglio fare Solo sia ridere Scherzare Andatevi a far E mandi la foto Della chat Voglio te No no Meglio che non lo sai No no C'è un video C'è sono Messaggi E che t'hanno detto Tu che hai mandato Niente Io non ho fatto niente Allora Poi Vengono qua La storia nuova E mi dicono su Sti difficili Ah già se devo costare Il L'altro piccolo in ferro Perché mi sei rotto L'altro Trovo io Vieni No Ce l'ho Già Però qua C'è già la vostra Graffare tranquillamente Guarda che ti ho trovato Un cane Ok piccolo in ferro Lo faccio Dimmi se lo trovate Io andrei Aspetta Però sono Prendi la pistazzo Facciamo una cosa La pistazzo Li riprendo Rispetto Comunque Non male E li metto nella cassa Sopra Dove sta Il tavolo dei incantesimi Dimmi Potresti dare qualcosa Ecco No Non puoi entrare Nella nostra torre Oh Yeah Devi uscire Ah Ok Andiamo Un po' Che è permesso Non c'è più un affitto Alla Io vado Forlcuna 3 Vado Sì 3 2 1 Boom Ok Fortuna 3 Efficienza 4 Vado a casa da male Mica male Rompe veloce Rompe veloce Ma tipo Che hai rotto No frate Aspetta Dormiamo un attimo E poi continuiamo Dormiamo un attimo Buono comunque Sti 3 livelli Sono stati usati Molto bene Sti 3 livelli Eh sì Perché ho 27 livelli A dormire Strums Io ho fatto Un casino Di quarzo Vai a dormire Signore limoni Sto arrivando All'ultimo Mi sa No questo Io mi piano Ok 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 Ma perché questo sta così No ma perché le hai messi così Non le ho messi io Non le ho messi io Mi devi stare a fare la cosa Ah giusto Ma hai capito se trovi gli amanti C'è da poter dare tipo 4 Eh ma quale sembra quanto cacchio ne serve Io solamente 35 Solo 30 Scorpion ciao Ciao Vai ancora nel nede Ancora No No Un attimo Tu Non voglio proprio sto piccola Motivico Tengo altri 4 stack Di che cosa Ma io sto facendo quel quarzo diverso Sto facendo quel quarzo levigato Tu stai facendo Come si fa il quarzo levigato Smooth quartz block Eh come si crafta Non lo so a me mi ha dato lui random nell'inventare Vabbè senti vai Ma raga Ma raga io un altro Vabbè faccio tutto io Ma perché non c'è un po' su dove ci dobbiamo allenare con l'arco Un po' su dove ci dobbiamo allenare con l'arco Con l'arco che cazzo vuol dire C'è Un tiro avversario Tira il bersaglio Eh eh Ma no Ma si potrebbe fare però Sì vabbè Sì vabbè Ma fa una cosa vota C'è la pietra non è che se la rompe Se la mangia Sto vedendo dalla leva Io vado a prendermi un cazzo Vabbè cosa lo sai Vabbè me lo scavo tutto dritto Masticazzi C'è mamma mia Dobbiamo farlo molto alto vero Giusto Ovviamente Più o meno 100 blocchi di altezza 100 blocchi No un po' troppo Tipo sui 80 Sui 70 Sì 70 Dai 70 Quasi dobbiamo Quasi 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 Accetti le femmine Accetti le femmine Sì certo Perché non dovremmo Siamo sempre tutti uguali Ricorda Comunque sono Sono Sontato in una caverna Subite l'apis Ma raga Quando viene a costare Quello sopra Super 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 Alessandra Da cosa giochi Da play Da nintendo Da xbox Perché se sei da ps4 O ti possiamo parlare anche Però sto piccone si consuma immediatamente Raga Qualcuno può fare un Quanti anni hai? Ho 12 anni ragazzi Sono da ps4 Ok da ps4 ragazzi Allora si può entrare O mandare la richiesta Fatti dire l'id Vabbè Comunque il mio id è in descrizione I miei id di epic E di epic E psn in descrizione ragazzi Fra Scorpio Può giocare Te l'ho già detto prima Ma certo che potete entrare Ragazzi Vedete tutti quanti Tutti benvenuti ragazzi E poi Mi getto anche un regalo Eh Regalo Che sta Eh In legno No La spagna di ferro Allora Tu mob Ti levi Grazie Comunque Perché Alessandra Avevi detto Che se accetto Le femmine Perché forse Non la volevamo Forse c'è qualcuno Che la prende in giro Perché non vuole C'è Vabbè Non si dovresti preoccupare E sempre E sempre Noi sono buoni Regole mondo Allora Regole mondo Che non dovete Dire parolacce Scrivere in chat Tipo parolacce O bestemmia Non prendere in giro I compagni Che stanno giocando Non prendere cose Dalle cestie Non rubare cose Dagli altri Non distruggere costruzioni Non rubare le cose Robare le cose Il fuoco amico è disattivato Quindi No Accetta Ok ora ti mando Ora l'accetto Ok Speedy On MK Ok Ora le invito anche Nel party Sì Si può costruire Ovvio Devi costruire la tua casa Dovete poter costruire Tutto quello che volete Prendere una stanza Di un albergo Vi raccomodo io Questa stanza La porto io Allora No Speedy On MK Vabbè Il mondo è di tutti ragazzi Non inizierò a besticciare No No Perché ho detto La porto io Perché io sono il costruttore Vabbè In teoria L'account E poi E' Dio E' Dio mio fratello Ok E praticamente Ehm Sì Ehm Volete Creare una casa Potete chiedere anche Aiuto a me Che sono il costruttore Della Della Vanilla Tu entra Entra Dai raga No Ma mi sta per rompere il piccone Ma what? Ecco Ciao Ciao Allora Venga con me signora Allora ragazzi Allora Allora Lo porto io Lo porto io Ok Ragazzi mi fate fare 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 il tour del mondo Ok Dov'è La tippo un secondo Tippiamo Tranquillo Tranquillo Non ci vuole niente Dai raga Un diamante Uno solo Allora Vedete stare il suo piccolo Come ti chiamo? L'abbiamo già dettata in chat Cioè Non è un problema Non è un problema Penso che tutte le Penso che l'abbia Salta Alessandra Alessandra L'ho detto 20 volte Venga da noi Cioè La puoi tenere trasportare Per favore No Non può Deve ancora entrare nel mondo Eh Infatti Quando entra dici Aspetta Ale Ah senta Come senta What O attimo un secondo Giusto i trucchi Per tipparla Solo un secondo Aspetta Ora la invito Ti ha invitato Perché lo spawn È lontano Vabbè Non è proprio Così tanto lontano Ma io non ti vedo Non vedo Non ti vedo online Cioè Ma io non ti vedo nel mondo Eh non ti vedo Non ti trovo Hai la mappa Ma sto dicendo su Epic No Su No aspetta No ragazzi Allora I simchat Nella descrizione Stanno i miei di Quello di Epic E FR Dogex02 E invece Quello Di PSN E Dogex02 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 Domenico Comunque Sera anche te Luigi Scusami se Non Non ti ho letto il commento Ciao Speedy Eh Ma no Non è minima Po 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 Alessandra Piacere Andrea Poi abbiamo Checco Poi abbiamo Giuseppe Che è lui Quello che fa la live Non c'è Non è la grandita Questa descrizione Però Vabbè Togliamo Si presentiamo Il nostro mondo Che si La tipo Un secondo Velocemente Allora Questo è il nostro mondo È l'utile che fai La descrizione Dettagliata Andre Qui C'è la torre Dove viviamo Io e Dogex02 E Invece Questo È un mini Albergo Nell'albero Se vuoi Puoi andare A visitare Vieni con me Ti porto Poi lì c'è un castello In vendita E poi Lì c'è una casetta Vuota Che dobbiamo ancora Allestire Abbellire Vieni con me Segui Pumastellare Vieni Segui Pumastellare E poi Segui pure Genni Fermo Smeraldi Raga Vieni Allora Poi Allora Tu la casa Te la devi fare Per forza Però Vuoi decidere pure Di alloggiare Raga O nell'albero O nell'aperco Ok ragazzi Io con uno Smeraldo Ne ho trovati quattro Vieni Ok Ok L'abbergo Però Allora Puoi scegliere una stanza Ma non l'ultima Perché ci abito Un altro Iscritto Gerardo Che purtroppo Non è entrato oggi In live Comunque Tieni il regalo Come avevo detto In live Vieni Ora Stiamo facendo Un altro Hotel Hotel Per cospirare Più persone Dole forza Il piano terra Con tre porte Con la contro porta Ok ragazzi Perché sono tutti occupati Gli altri piani No Questo Tutti da soli Ocre con me Ecco Questo qua il tuo Se vuoi della roba Puoi finire in casa mia Che te la do Vieni Poi allestire Ragazzi Allora ragazzi Però scuola Una cosa Visto che lei Già parla Aspetta Ragazzi Visto che lei Già parla piano Abbassare un po' Il volume dell'audio Perché a te Quindi non lo senta Nessuno Ah ok Ok va bene Tieni Le ossa Puoi andare Tutto Guarda cosa hai Tieni Eh noi Ti voglio il cibo Ti voglio un attimo Ti voglio un attimo Ti voglio il cibo Invece Devo scrivere un attimo Il suo nome Ok Non l'ho un po' Ok eccola Ti sto Che ho questi Ok E Il cibo Ti chiameresti Per la quarta Per la diciannesima volta Si Quale hai affittato L'ultimo O primo Alessandra Scusami Alessandra Quale hai affittato Eh no Mi serve Aspetta Stanno la rompettine Vi do Ah no Sicuramente non hai affittato L'ultimo Perci Ragazzi mi hanno droppato Una pozzetta Di cura Trident X Ciao Ciao Trident X E ve lo sciacchi l'info Però vabbè Eh vorrei non morire Non morire Ho mezzo cuore Mamma mia questo hotel Mi sta Fai schifo Oh fai schifo C'è pure una femmina Perché che problemi O facciamo pure Quattro stanze Al piano terra Perché E parla lui Eh lo so Vabbè Vi piace il mondo Allora Vediamo un po' Se l'avere la torre Devi pagare E cinque Come il cavolo Si chiama Quei cosi Lengotti di nederite Già craftati Due Tre Ragazzi io faccio L'anvil Craftata Poi cittare Se no Che stendiamo Bomba Se no Da qua Ora io È tutto a mano Oh scorpion Si può invitarmi Somma Eeeh Ah si Scopion Può invitarmi Somma Scorpion Ah si Eh Di entrare Nel L'invito L'invito Subito Eh non Non l'ho invitato Ma non entra Alessia Ah non Alessia No Perché Sono simili Alessandra Ti sei? Ok Vieni un attimo 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 Che fine hanno fatto Adesso Vieni un attimo Come che si dà un po' di roba Giuseppe Dimmi Più alto Dico sì Fare Allora Asperti Fermi un attimo Di dove sei tu? Minchia Minchia Eh Scusate Eh si Abbastanza Abbastanza alto Scorpione Maronna mia Scorpione Scorpione Guarda queste Ma che l'abbiamo invitato a fare sto mondo Io ancora Devo capire perché l'abbiamo aggiunto in questo mondo È più intelligente di me Cioè io non riuscivo niente a saltare in un blocco e lei si Trova bene Coordinate Frappo ti parlo un attimo Non voglio spendere i soldi per delle scimmite No è sto costruendo Te lo tipo da te Ok ti parlo Non gioco più Perché non gioco più Vieni Vieni La casa di me E Sei speedy Ciao Alessandra Spidi Spidi Stai Non mi confondo Eh 20 volte Oh puoi contare un attimo i blocchi d'altezza Eh ram un attimo Sto prendendo un attimo a mettere a cuciere del cibo perché sto mandando di fame Sì Guarda Non capisco una cosa e tu l'hai capito Tu l'hai capito Guarda sono molto curioso Ma cosa? Da che Che ha scoperto che stiamo in Italia Eh italiani Lavoro da Sì Cioè Dato al 100 si capisce Eh Seguimi Ragazzi abbiamo finito il ferro Ce n'è un po' Addirittura così cattivo Eh abbiamo finito il ferro Non so se il mio amico ti ucciderebbe Però va bene L'abbiamo usata per fare Non ucciderti Ma cosa avete preso dalle ceste? Non potete prendere niente dalle nostre ceste? No Niente No l'ho usato io per fare l'embil Niente Non l'ho fatta a pozzo perché Cioè no niente Non ha preso niente Ho fatto l'embil comunque No ma me lo dici che ha preso? Niente Ma ti spello a te o non è? Eh no non lo devi prendere ci serve Cosa ma che cosa? Vetro viola dobbiamo fare ancora un altro No 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 buono 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 Può prenderlo Tanto possiamo guardandola possiamo sempre rifare Non ci vuole niente fra A riprenderlo A rifarlo Ma non ci vuole niente a rifarlo Eh Cioè non è che ci vuole tanto Non è che ci vuole tanto Fra comunque Aspetta vieni qua Ma dove è andato a Scorpion? Scorpion Quello chi è? Sto nel castello credo No eccolo qua 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 Fatti poi un attimo da te Da me Dai da te Stai fermo Non ti muovere mi raccomando La casa devo farla vicino o distante? È distante Fra comunque guardami un attimo Io ho 64 di questi Ma forse non ti dovresti preoccupare Quindi E non li craftare Non li crafto Ok Comunque sarà abbastanza bello Poi l'ultimo piano sarà Quello mio E di E di Peppe Perché ci sarà il lattico di lusso Ok Comunque regà sto piccone con fortuna E' una bestia Mi scostro Renta come velocissimo Scolta come tutto Andando al più veloce Dele E' una Renta che fate in miniera No perché se non trovo diamanti O te lo giuro Io ho bestia Mai bestia No non devo bestia Ma se prendi diamanti Non te lo dico No no La giarda Però questo In senso dalla miniera Guarda qui La pitto Costa 60 E' comunque E me lo devi sempre tirare Di blocchi di Quindi Vai Mi tracchetece Mi tracchetece Dovi pagare Devi pagare La tassa d'affitto Ma che Carina Grazie Che te dava Allora Alessandra Alessandra Eh sì Ah Mi sto emozionando Non ti ricordo del nome Mi sto emozionando Due stack di pietra Alla domenica Però Devi pagare Agli altri Due stack di pietra Alla domenica Certo Sì perché Devi pagare l'affitto Fra il tetto Vorrei Vorrei fare un colore Che spezza Di scalini Di cose Li potrei fare Di legno Di oac Si sei Vieni con me Alessandra Deve essere un colore Che spezza No E non tutto il quarzo Frede deve essere un colore Che spezza Che spezza Ma che cosa spezza Che c'è a contrasto Va a contrasto Di oride Ma la di oride Ma che Non puoi rubare niente Se no L'ispito sarebbe Insomma Vieni bannato Eh Per sempre Allora continuo in quarzo Eh mi sa che Ma Perché non può parlare Ah Gerardo Ci vediamo dopo Ok Gerardo viene tra poco Fratello sto facendo Un tetto Fighissimo Cittro Ho detto Guarda No Molto bella Ha detto Fra faccio un tetto Classico Faccio un tetto Molto più difficile Wow Ok Faccio un attimo Una skinna Un tetto Un tetto Un tetto Un tetto Un tetto ki Posso entrare Certo che può entrare Tridento la cosa è la verità che pietra maggiore ora come questo piccolo è imparato che si rompe in due secondi scala no vero no facciamo un altro scala nuovo è il mio sì sì doppia scala poi dritto doppia scala poi dritto deve essere tutto così allora si vede si vede di marci non sono stato io mi senti comunque sto piccolo se non ci mette un breaking si rompendo tre secondi peggio la piccola nono dittura peggio del piccolo in oro orco due dai ora da un caccio di diamante scala scala blocco scala scala blocco scala scala blocco scala blocco si però come si fa non preoccuparti tutto l'entrima che piattaforma giochi scala 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 blocco scala scala blocco scala 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 sì, che è nato quando sei di giugno è gemelli eh, quale sei altro? l'8 giugno ah, giusto, quindi sei giugno prima ragazzi, ieri, oggi è venuta una cosa stupenda tu ne hai fatto un capo dai, perché voi non volevate oppure noi no, ho sbagliato, attenzione ehi, aiuto a prenderci un cane, va bene? no, no eh, se ne da voto, chissà ma veramente, bravo ma quando la fai? ok, mo faccio un volo della Ronaldo e ora la Ronaldo, chissà, è proprio scema ah! eh, sì cosa faccio? segretà vabbè, almeno, non soffro no, no io sono mille se io arrivo in Inghilterra e Elisabetta non mi inchino no, mi inchino arrivo in Inghilterra Elisabetta e io non mi inchino invece di in grado di l'oro un applauso di un cane no perché l'altro la finale ma non mi sono fatto male io no tipo napoli sempre tua nonna se ti fai giù mi sa che fai una brutta storia cosa cos ok come si chiama ok come si può entrare basta che pari quando mi dici il tuo id mi mando la richiesta e e basta ma basta che gli dici il codice no no ma devi mandami la richiesta scala scala blocco scala scala ma ancora sto cane chiudi la porta chiudi la porta ho visto un ragno impressione via c'ho visto un ragno adesso non ho più la schinta scena diamanti godo no 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 di stupro ti annuncio due solo godo non è vero non godo allora vai uno due ho finito ah è la mia giocatura ti serve 5 diamanti ragazzi la mia giocatura ti serve allora il mio aspetta allora ho scritto lo dico subito profile eccolo qua di emertag todix 6538 ti faccio vedere fravi neve nel tetto eh no aspetta vabbè tippami 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 allora devi stare attento ok non ti muovere oh mio dio oh bitore se vuoi buttati per la views non ti posso neanche colpire ma io non muoio ma io non muoio neanche come vedi qua c'è un castello ma questo castello era di qualcuno ha usato la creativa e non è pisto ed è stato bannato perché non c'è più non può più entrare non può più entrare non entrerà mai più vedi il cibo che sto per schiattare ma no sono troppo forti sono troppo forti sono troppo forti ok tutto il mondo ciao no perché si è offeso i bambini oh mamma ti ho mandato la richiesta ok ora c'è una futta no ma non mi arriva ah no mi sa su ma non so adesso come si fa ad accettare signori è stato un piacere come ti accetto di solito come si fa ad aggiungere ma ci vedremo mannaccia mannaccia no sapere molto bello eh cibo raga dobbiamo aggiornare minecraft aspetta dove aggiornare minecraft ma stai bu come mi hai detto di aggiornarlo è tutto nella playstation baggato stai scrivendo incasettiva mio incasettina mia allora tua casa andrea scorpione vuole vuole fai sì con la testa vuole il cibo ah le fa ok vado a entrare la tua casa beca 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 uomo ampedita sì raga secondo me è un sogno vedere tutta sta roba eh io adesso non mi sa mai fatto cioè il cibo a me si avrebbe proprio il cibo allora raga ammazzatevi un attimo eh non posso ammazzare ma che da me ammazzare il fuoco mio è disattivato eh non so ma devo farlo basera ragazzi entri un attimo nel nether posso bravo muori eccomi arrivo solo di ma voi mi dovete fare il vostro nether non è che potete venire effettivamente si è vero a farvi entrare e ve lo dovete fare e non è miniera vai rubare c'è non potete venire a robare il nostro nether eh io avevo visto arrivato un secondo però va bene e non può duca che è sponato sto ragno ma schiatta va giù ma chi è che sta ma c'è qualcuno che sta a venire vieni vieni ok vengo vengo aspetta un attimo aspetta un attimo un attimo che succede eeeh minecraft dove ti sta lì aspetta come se ama baby sono costretto a usare il legno come un palcatura vieni anche questo is schattemonna dai dis per i tucci sul cane cosa volete vai venite bibita loca un bel bello comunque genio si si deve si si deve guardare mai rastro ci avrebbe fatto uscire dal mondo bello comunque vabbè io sono accennato l'organizzazione è pronta ma sarà un bar se si sta aggiornando con un iguio vedere la cosa ma come che non parli questa nel party che non parli nooo non le potevi mettere le finestre mi ha rovinato l'albero non le potevi mettere le finestre oh mio dio no le devi levare le finestre dicelo alessandra devi tagliare le finestre ha detto ma ma c'ha mutato no se un imbecile non si sa tardi non me ne fotte proprio oh ma oh ma che oh ma stai buono è una segna lascerò stare non vado a pensare alessandra oh cazzo non è mio amico ma fai mocco io esco c'ho ho capito alessandra fai mocco eh però ti consiglio di levare questi vetri perché veramente ci abbiamo messo un botto per farlo ci ho messo due ore solamente per farli per far tutto e per abbellirlo allora puoi tenerli puoi metterli in casa ma poi il vetro puoi tenerli anche in casa però inizio sulle finestre no la sua ma senta vedi fa schifo eeeh eeeh senza vedi fa schifo e mi dispiace non venire a vivere qua no ma per oh senti e dai oh vabbè oma di stare caldo il regno di walk no ma così va bene puoi tenerli questi vetri qua scusami no no è un problema cioè non c'è nessun problema per tenerli no 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 perché aspetta aiuto non lo pensare alessandra non fa niente alessandra non fa niente non ti preoccupa non capisci un cabolo ma no no ma perché comunque perché alessandra vuol dire perché non parli eeeh nel party perchè tu sei nel party scusa ah devi andare ok ah devi andare ok eh ho capito eh ho capito trident però io ti ho invidato nel party cioè se tu non entri eh ah pronte per l'installazione guarda lei mi è uscito a non fare niente raga aspetta allora facciamo una cosa ma tu non mi hai ancora inviato neanche la richiesta raga che facciamo li togliamo sti cosi si 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 e si togliamo i cartelli va ma una foto leva tutti i vetri io piazzo il legno ma no no fai da che guarda si era presa tutto alla cesta la mia armatura rotta ma che è da che sto io o che ma non fa niente cioè non è che quella mattina che l'ho nata io metà no ma era la mia vado su quale vorrei stare questo qua vorrei stare facciamo così ma quelli dentro cioè quelli dentro erano cioè quelli quelli che sporgevano levati quelli che sporgevano sul fuori erano brutti perché capì non davvero comitare mi dispiace però per lei ah perché ha quitato è perché è che è che avrà a me serve cibo porco due anche a me ho due cuori e mezzo ma mamma ragazzi lo sapevo che non era una buona idea fare in tre iscritti sto scherzando sto scherzando e allora che dobbiamo fare facciamo una cosa dimmi tu il tu id trident x allora manda manda dimmi tu il tuo id che ti la mando io facciamo prima così oh puma mamma secondo me una cosa puma sai quello che hai detto è andato sulla live ok vabbè non è sandra stavo scherzando che ha detto che ha detto ci vediamo stasera o domani è nella chat ah è nella chat ok mi puoi dire il suo addio ma lei che bellissimo mi puoi dire il suo addio forza napoli sempre qual è bel posto no dai io se vivere sopra sono sopra la nuova raga raga oh mi sentite si si qualcuno può dirmi lì di trident nella chat dirglielo tu io sto facendo una cosa qua trident x aspetta allora aspetta qualcuno me l'ha detta glielo ho detto glielo ho detto eeeh trident x poi non mi ricordo più trident x oh what faccio faccio vabbè faccio ma la solia 2 5 1 6 3 0 3 ma tutta ma su ma su dove ma su ma su ah lui è vero 2 data switch vero qualcuno mi ha ridetta 3 3 3 3 3 3 3 3 staccato x staccato x 2 5 1 6 si staccato x 2 5 1 6 searching cercando vediamo se sta arrivata 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 5 6 6 7 7 9 9 10 11 11 11 12 12 13 13 15 12 13 13 15 15 15 15 16 18 19 19 19 20 20 21 21 21 20 20 21 20 22 22 22 24 25 26 24 25 25 26 27 26 28 30 27 becora arrabbiata sono due mucche stanno sparando gli animali nell'hotel due mucche come ci no devo le voglio uccidere perché non ho cibo le ammazzo io perché sono troppo forte sono spawnate ora non mi è arrivata e ma aspetta profila quello è il mio di game gamer tag dolci x 6 5 3 8 dove sei comunque sarà aggiornamento di minecraft comunque ecco aggiungono il sacchetto sacchetto cos'è un contenitore tipo un sacchetto dove ci mettere le cose dentro e portatelo un tipo una shulker box lo facciamo un aggiornamento no resta qualcosa di sto momento ha messi tanto anzi un attimo solo si avremo qualcosa possiamo tenere un altro qualcosa entrò nelle lezze facciamo sto aggiornamento è osservato e occultato stava qui perché dobbiamo fare l'aggiornamento voglio il sacchetto no andiamo a giocare al rocchetto no ma mentre si fa l'aggiornamento non puoi giocare ad un altro gioco ma si sce è a 17 il mio che cazzo vuol dire dice 3 ore rimaste a faccia la spacchetto a te quanto dice a me un minuto 10 minuti è impossibile farà un possibile è impossibile che dice 10 minuti frate possibile cosa giochiamo niente a niente sta da fare l'aggiornamento ma si strumento beh guarda si tocca tanto ma sto per la live la live che cosa vuole fare raga che è successo? ah ma mi sa fare l'aggiornamento però canuba manca la gualla no com'è che mi sa fare l'aggiornamento? eh ma ci fanno 10 minuti però a me si bagga quindi spengo e riaccendo un secondo e mori in a me la pesce 5 ci ha messo 2 minuti e l'ha fatto e lo ha fatto un'ora fa ok molto bene non è un po' che sia scritto qualcosa trident x allora rega lo faccio anch'io al nostro punto no? eh lo faccio anch'io faccio una cosa ragazzi allora faccio una cosa faccio anch'io questo aggiornamento e farò la live quando si aggiornerà quindi tra poco mi sa quindi ci vediamo tra poco grazie 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 grazie